Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. In A12 guidare con prudenza per la pioggia tra Pisa e Rosignano, spostandoci sulla FIPILI, personale sulla strada tra Montopoli-Valdarno e Santa Croce-Sullarno in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori in direzione Siena, scambio di carreggiata tra i chilometri 42-300 e 39-400 tra Bargino e Tavarnelle e chiusura dello svincolo di Tavarnelle, sempre in direzione Siena. Per le statali sulla A12 della Betone del Brennero, senso unico alternato al chilometro 42 a Borgo Ammozzano in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!